Una disfatta, amplificata nelle proporzioni da situazioni episodiche, che però conferma quelle che sono le attuali difficoltà. È una giornata da dimenticare in fretta quella che vive il San Nicolò, che cade pesantemente sul campo della Civitanovese e rimedia anche due espulsioni, che poi avranno i loro strascichi nella prossima partita. Il valore dei marchigiani non è in discussione, così come la legittimità del successo, ma è altrettanto vero che l'equilibrio nel punteggio, sul finire del primo tempo, viene spezzato da un episodio decisamente dubbio, che alimenta più di una perplessità. L'episodio del rigore, con relativa espulsione di Mottola, è una sorta di macigno per il San Nicolò, che da lì in avanti non riesce a reagire, anzi presta il fianco alle accelerazioni della Civitanovese, che chiude la pratica in avvio di ripresa. Nella formazione di partenza, Calabrese deve compensare le defezioni di Arse e Antienucci. In squadra trovano spazio Marziani e Colacioppo. L'avvio dei marchigiani è aggressivo e il San Nicolò fatica nel contenere e ripartire. In apertura ci prova subito Traini, sul lato corto dell'area. La conclusione finisce sull'esterno della rete. La pressione degli Adriatici è costante. Al quarto d'ora Paganotto, su azione d'angolo, anticipa tutti, ma non inquadra lo specchio della porta. Il timidi Calabrese rischia ancora al ventunesimo. Traini fila via sul filo del fuorigioco. Sull'uscita di Angelozzi prova a disegnare un tiro cross che Mottolo sparacchia via in prossimità della linea di porta. Il San Nicolò, sino a quel momento timoroso, come d'incanto batte un colpo che potrebbe rivelarsi letale per gli avversari. Petronio effettua uno spiovente che premia l'inserimento di Di Paolo Antonio che conclude a botta sicura. Sulla linea salva un difensore, poi si accende una mischia furibonda, ma Lalli non riesce a spingere il pallone in rete. La partita si accende. Sul rovesciamento di fronte ci vuole un super Angelozzi per opporsi alla girata di Bonaventura. La partita cambia radicalmente al trentasettesimo. Mottola, in fase di chiusura, tocca il pallone in maniera ingenua, forse con un braccio, ma in ogni caso fuori dall'area. Il direttore di gara lo ammonisce e concede una punizione dal limite. I rosso-blu di casa protestano. L'arbitro cambia opinione, concede il rigore e manda degli spogliatoi Mottola. Dopo una lunga interruzione, Bonaventura calcia il penalty, che Angelozzi respinge, ma è il più lesto a ribadire in rete e marci. Il San Nicolò accusa il colpo. Ci mette un po' per risistemarsi in campo. Tempo prezioso che Bonaventura capitalizza al meglio poco dopo, con un diagonale che vale il 2-0. Al rientro in campo, il San Nicolò prova a rimettere in discussione una partita già segnata, ma la situazione precipita del tutto. Al tredicesimo gli ospiti restano addirittura in 9. Petronio affonda troppo il tackle e l'arbitro gli sventola il rosso. Sulla punizione susseguente, Mandorino sorprende sul primo palo Angelozzi, che parte in sensibile ritardo. Passano pochi minuti e la Civitanovese cala il poker. Traini fila via verso l'area avversaria e scavalca Angelozzi fuori dai pali, con un delicato lob. Partita chiusa. La Civitanovese non infierisce, mentre la squadra di Calabrese prova a limitare il passivo, già di per sé pesante. Prima della fine ci prova Colacioppo, con un destro dalla distanza, che si perde Aldo sulla traversa. Per il San Nicolò arriva la quarta sconfitta in campionato, la seconda nelle ultime tre gare, e domenica a piano d'accio arriva la San Benedettese.